Gli star di Rottami hanno trovato un droide imperiale nel reattivo. Guai si finisse in mano al primo ordine. Il piano era prenderlo e filarcela. Ma non è mai così semplice. Abbiamo il droide, ma gli assaltatori ci hanno trovati. Respingeteli alla piattaforma d'atterraggio e al controllo del reattore. Troverò una soluzione. Sono la piattaforma d'atterraggio! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grossi guai al controllo del reattore! Grazie a tutti! Abbassate le armi! Non mi piace. Abbassate le armi! Grazie a tutti! 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 Ho aperto un pericolo! Con i vicini! Possiamo decollare! Il droide è a bordo! Andiamocene da questa discarica! Grazie a tutti.